Salve ragazzotti, allora 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 vi volevo avvisare che oggi cioè il 25.10.2014 che è sabato esattamente a, sentiamo il controllo, alle 19 cioè alle 7 il contest sarà chiuso quindi non potrete partecipare più domani sera alle 9 si spone sempre minuto più, minuto meno, intanto c'è qualcuno che si supera, che si sponsorizza, ma lasciamo bene in pratica il contest sarà chiuso, domani entro le 21 ci sarà il live di prevenzione dove prima giocheremo un po' con voi ok, poi tanto sempre mi spuntano i bisi di steam, ma adesso li chiudo perché li chiudo brusamente allora aspettiamo in, aspettiamo in offlineissimo ecco qua comunque per chi mi volesse aggiungere su steam sono sempre rapper rubia e nebbia e nebbia e nebbia e nebbia e sette comunque dicevo ragazzi il contest è chiuso dalle 7, dalle 7 sarà chiuso quindi tutti i commenti che saranno dalle 7 in poi saranno non più accettati vi ripeto le regole molto velocemente per chi volesse partecipare ancora un'ora di tempo per il primo posto dovrò ammettere un hashtag con scritto io partecipo io sto odiendo le mosche oggi infatti il mio fratello ammazza mosche poi ti ucciderò allora dicevo per chi vuole partecipare più che capelli erribili oggi per chi vuole partecipare per il primo posto avrà bisogno cioè le regole sono queste per due giochi che sono i due migliori giochi del bundle che ho preso sono hashtag voglio partecipare nei commenti possibilmente un messaggio su steam cioè su facebook con la sua iscrizione al canale con lo screen possibilmente è la condivisione di questo video sul suo canale sul suo facebook sarà per il primo posto per il secondo posto è hashtag battuta di merda cioè dovete scrivere hashtag sempre io partecipo hashtag battuta di merda nebbia leggere la battuta e nel caso se nebbia far ridere io non capisco niente che battute brutte e avete l'iscrizione al facebook quindi cortesemente ci è sempre uno screen con l'iscrizione vi terremo in considerazione per il secondo posto io già alcuni li ho scritti perché già nebbia alcuni li ha scartati per il terzo posto che si vince un solo giochio perché i giochi sono cinque cioè due al primo posto che sono i migliori due al secondo posto e per il terzo posto uno solo basta mettere semplicemente hashtag io partecipo e l'iscrizione a facebook fine nella trasmissione cosa succede domani ve l'ho detto ci sarà il live faremo prima 10 minuti di giocare perché comunque voglio giocare prima dopodiché decideremo a nebbia così a estrazione sul random cioè già ho visto quanti sono vi posso dire quanti sono i battuti di merda già per esempio che ce li ho qua ce li ho in un foglio eccoli qua esclusi quelli nuovi perché nebbia non me l'ha detto già quelli per il secondo posto siete 12 escludendo quelli nuovi non vi posso dire ovviamente chi sono perché sennò faccio spoiler delle norme escludendo quelli nuovi siete 12 i primi partecipanti non so quanti sono ancora li devo montare i terzi dovrebbero essere 5 6 non mi ricordo quanto sono ve l'ho detto avete tempo diciamo 7 7 e mezza dopodiché il video lo metterò in privato andrò direttamente al cellulare e metterò video privato o lo farò in nebbia direttamente non potrete partecipare più il video dovete aspettare sempre domani domani farò un altro video assieme a nebbia possibilmente dove diremo ovviamente del live chi ha partecipato rimanga perché non allungheremo troppo col discorso voglio farmi una partita 10 15 minuti dopodiché occuperemo il live per la premiazione chi sarà su ts direttamente lo tirerò su in stanza con noi con me nebbia ci sarà anche blink e vedremo chi c'è gli darò direttamente la pagina per ritirare la key e ovviamente lo faremo salutare in diretta ok voglio rendere la cosa più interessante per gli altri per il battuto di merda avevo pensato avevo pensato devo dirlo anche a nebbia di fare una cosa molto divertente cioè chi non ha partecipato parteciperà in un altro modo cioè leggeremo la sua battuta di merda infatti nebbia deve salvarsi gli screen così diciamo chi ha partecipato in questo caso lo faremo comunque ecco però un premio di conservazione sarà detto nel live la sua battuta ovviamente è recitata da nebbia perché solo lui sa fare le super mega battute per il resto ragazzotti vi ricordo sette e mezza perché già sono le sei comunque non avreste tempo sette e mezza il video sarà messo privato questo video per chi ancora non ha visto le regole si vada a vedere subito il video comunque già le ho dette prima ricordatevi primo posto hashtag io partecipo primo posto scrivetelo screen su facebook della sua iscrizione e screen nella condivisione di questo video secondo posto hashtag io partecipo screen nell'iscrizione hashtag battuta di merda con la battuta terzo posto solo hashtag io partecipo io partecipo non so più parlare lo screen con l'iscrizione a facebook qualcuno si è pure lamentato ha l'iscrizione a facebook perché io non ce l'ho magari ragazzi ci saranno altri contest dove ci saranno altre regole magari faremo anche un contest direttamente con solo io partecipo senza niente però vedremo qui in là comunque ragazzotti video stretto 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 neanche senza intro perché lo voglio fare proprio veloce che già ho parlato abbastanza e quindi ciao a tutti ragazzi un buon giorno a tutti i giorni e buon mesho a tutti gli altri ciao ciao